carrozzeria rf2 siamo qua per la seconda secondo round di questa primula sqp dell'amico massimo davide buonasera com'è ti piace è bello lavorare su queste poi quando ci sono queste tinte è veramente personale questa sai che i verdi petrolio azzurri verdi verdi azzurro sono fra i miei preferiti allora adesso procediamo nell'ultima mano della della stessura della vernice quella definitiva dopo aver dato tutti i riempimenti passiamo direttamente all'ultima mano quindi partiremo dal tetto dalle superfici piane in generale quindi tetto cofani per poi passare alle fiancate e poi al dettaglio degli spigoli sottosquadra ma basta chiacchierare sulla maschera sia io che te silenzio si va dai via bravo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che roba, è diventato bravo Davide, potrebbe farlo di mestiere adesso. Adesso muori perché la devo finire questa bellissima domanda. Bene, ciao, ci vediamo più tardi. Ciao.